Ciao ragazzi, sono Jill, FoodSpringers, guarda la novità delle novità, Vegan Protein Bars. Quanti di voi mi avete chiesto una proteina vegana? Perché molti di voi siete o vegetariani o vegani, siete molto attenti alla provenienza delle vostre proteine e volevate avere una soluzione alternative ai prodotti di FoodSpring? Beh, FoodSpring ascolta, FoodSpring pianifica e poi porta a noi queste opportunità. Allora abbiamo due gusti, il problema è che l'altro gusto l'ho già mangiato, scusate mi hanno mandato, però sono talmente buone, le ho finite. Allora abbiamo cioccolato a mandola e poi abbiamo nocciola a maranto, tutti e due buonissime, la consistenza è browniesque, perché comunque ha questa consistenza proprio di farinoso, se vogliamo dire così. L'altro giorno l'ho messo addirittura dentro una smoothie, perché siccome il dottor Sasha Sorrentino, il mio nutrizionista, colui che lavora con me sul detto fatto, che mi sta aiutando a far dimagrire queste ragazze, mi ha messo sotto torchio anche a me e mi sta rieducando, dicendomi quello che devo mangiare e devo dire, c'ha ragione, non c'è niente come un bravo nutrizionista di mettere in sesta. E io che cosa faccio? Quando io mi faccio le mie spuntino delle 4 di pomeriggio, io facevo solo frutta, facevo latte di cocco, poi mettevo magari zenzero, ananas e frutti di bosco su gelate, però lui dice oggi devi aggiungere un protein. Allora, adesso io mettevo la mia protein bar, che c'è questa consistenza come una brownie, lo mettevo dentro, avevo questa cosa un po' cioccolatosa dentro il mio frullato, molto gustoso, e gli dà il giusto bilanciamento. La cosa ancora più bella è che mangiando con Sasha, mangio di più adesso e sono dimagrita 2 kg. Ah, fantastico, perché comunque lui sta provando di togliermi massa grassa, perché ha detto dai, andiamo a essere il massimo nel nostro splendore. Ma perché è così importante di avere i foodspring? Ve lo dico, innanzitutto perché poi se lo vai con il mio codice sconto, GILYT, puoi risparmiare, e risparmiare è una cosa importante, 15% possiamo risparmiare. Molte di voi mi avete già chiesto quante costano le barette, singolarmente 2,49 euro, ho una scatola da 12,24,99 euro, è trovata sul loro sito, ma se voi applicate ulteriormente il mio sconto, sono nata al 15%, così risparmi un altro 3 euro circa, sì, circa un altro 3 euro, così 12 barette ti vengono meno di 2 euro ciascuno, che conoscete meglio di me, se vai a un negozio specializzato o farmacia, lo trovi comunque una barette proteica a 3 euro anche, 3 euro anche 3 euro di più, dipende della baretta ovviamente. Allora, leggiamo poco poco insieme le nutrizioni, allora noi abbiamo di proteine per 100 grammi, 31 grammi, però la barette è 60 grammi, allora in una barette abbiamo 198 calorie, decente, ok ricordate che comunque è necessario mangiare calorie, non dobbiamo stare sempre a dieta, grazie a Sasha l'abbiamo capito che mangiando di più teniamo attivo il metabolismo, così è importante fare i vostri pasti, fare i vostri spuntini, e poi abbiamo per proteine per barette 18,7, poi abbiamo grassi, i grassi sono anche molto importanti, ma quali grassi? Poli insaturi, mono insaturi sono sempre meglio di grassi saturi, e poi abbiamo pochi zuccheri, quella cosa importante, c'è poco zucchero ma tante fibre, allora abbiamo in una baretta 15 grammi di fibre, in 100 grammi 24,9 di fibre, perché è importante la fibra? Ricordate che la fibra è quella che nutre la microbioma, noi non processiamo la fibra, la fibra ci passa, ok, però nutre il nostro microbioma, la microbioma è responsabile del sistema immunitario, metabolismo, intolleranze, è importante per proteggere il cervello, è importante per tenerci, per produrre la serotonina, che è un antidepressivo naturale, ok, così, Food Spring mi piace, uno perché mi permette di risparmiare, due perché mi permette di avere una proteina di buonissima provenienza, e non, diciamo, un proteine ricco di grassi saturi, o una proteine che comunque, in questo caso, non animale, e l'altra cosa, il gusto, perché? Ragazzi, non puoi stare a dieta, sempre, se noi stiamo sempre a dieta, la dieta prima o poi finisce, la dieta, quando noi pensiamo a dieta, pensiamo a una cosa, a una tortura, di un momento limitrofe, no, c'è una limite, non mangio questo, 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 per x tempo, per prendere y chili, giusto? Ma qua, che cosa succede alla fine della dieta? Ricomincio a mangiare le cose che non dovevi mangiare, e devi prendere i chili con interessi, con gli interessi, ma invece, se io comincio a ripianificare il modo che guardo il cibo, e comincio a cercare l'escamotage che mi appagano il palato, un po', ok, mi devono la proteine che mi servono per la massa magra, a questo punto, è come se avessi mangiato un dolce, cos'è quelli, proprio, i candy bars, mi viene in inglese, quelli dei cioccolatini, che sono veramente grassi, ragazzi, questa è la soluzione, foodspring, così, andate su foodspring.it, utilizzate il mio codice sconto GILYT, provate le nuove Vegan Protein Bars, è un modo sano per tenerci in forma, meglio di così non si può. Buona giornata a tutti, e ci vediamo presto, qui, su YouTube. Ciao!